Paul Tillich. Paul Tillich visse tra il 1886 e il 1965. Egli fu un teologo e filosofo ed elaborò una teologia che si pone in una prospettiva per più versi antitetica rispetto a quella elaborata da Karl Barth e incardinata sull'idea di Dio come il totalmente altro. Anche Paul Tillich è convinto dell'eclisse del compromesso fra cristianesimo e filosofia ottocentesca ed è altresì persuaso di ciò attraverso l'esperienza della prima guerra mondiale. Prima guerra mondiale che Tillich ebbe modo di vivere in prima persona come cappellano dell'esercito tedesco. Tillich militò dapprima nella corrente del socialismo religioso ed ebbe modo di insegnare in diverse università tedesche. successivamente con l'avvento del nazismo venne rimosso dall'insegnamento e fu costretto a fuggire negli Stati Uniti d'America. Qui operò fino alla morte avvenuta nel 1965 nelle università di Columbia, Harvard e Chicago. Tillich stesso ricorda nello scritto autobiografico intitolato sulla linea di confine che la doppia esperienza di vita in mondi così diversi, quello religioso e quello bellico, fece di lui un teologo alla frontiera. Questa immagine, che dal titolo anche alla sua autobiografia intitolata sulla linea di confine, esprime anche lo spirito dell'intera sua riflessione teologica. La sua riflessione teologica infatti è incardinata sul tentativo di scorgere tra l'uomo e Dio un confine che proprio in quanto tale li separa, li unisce e fonda la loro relazione. Nell'opera principale di Tillich, che viene composta ininterrottamente per più di 40 anni e si intitola La teologia sistematica, ma anche negli scritti minori che la accompagnano, Tillich viene maturando una prospettiva teologica incardinata su quello che gli appella il principio della correlazione. Ecco dunque la differenza rispetto a Karl Barth. Non vi è tra l'uomo e Dio un salto insuperabile, per cui Dio è il totalmente altro, relegato in una lontananza inaccessibile. Tale era l'esito della teologia di Karl Barth. Al contrario, per Tillich si dà una mutua relazione tra Dio e l'uomo. Dio viene scorto come la profondità dell'essere. Non si tratta allora di insistere, come fa Barth, sulla incompatibilità tra teologia e filosofia a partire dalla distanza abissale di Dio dall'uomo. Si tratta invece, per Tillich, di saper ravvisare tra teologia e filosofia, dopo la crisi che ha spazzato via le vecchie forme e di filosofia e di teologia, un nuovo e più autentico rapporto che sappia rispondere ai problemi dell'uomo contemporaneo. Per poter essere valido per le generazioni di tutti i tempi, il messaggio cristiano, spiega Tillich, deve poter essere mediato, anche se deve comunque preservare la sua validità intemporale. Deve saper essere mediato con le diverse forme di pensiero e di espressione che sono peculiari delle diverse epoche. E ciò affinché possa instaurarsi un dialogo anche e principalmente con i non credenti. Secondo Tillich bisogna dialogare con i non credenti. Questo compito apologetico si dovrà determinare anche rinunciando alla parola di Dio talvolta, quando la parola di Dio appaia troppo sospetta o insignificante, poiché non capace di esprimere gli abissi della vita, la sorgente dell'essere e la sua incommensurabile profondità. E proprio in ciò risiede il fondamento del dialogo e della possibilità di capirsi. Chi è attento alle sfere profonde della realtà non potrà mai dirsi realmente ateo. In ultima analisi, spiega Tillich di fronte al clima esistenzialistico per il quale rivela grande attenzione, il nome Dio deve segnalare il luogo di una possibile risposta alle domande dell'uomo, alla sua angoscia e alla sua crisi. Insomma, Dio deve suggerire all'uomo il coraggio di esistere, come scrive Tillich, il quale Tillich rivendica la dimensione ontologica della fede. La fede non è risolvibile in affermazione teorica e ancor meno in esperienza psicologica. Al contrario, la fede è accettazione incondizionata del trascendente. Dunque non è un'opinione, è invece lo stato di chi si lascia prendere dall'essere e solo in grazia di ciò è capace di affermare se stesso. Questo vuol dire che la fede è, a ben vedere, la sola autentica possibilità in un'epoca contraddistinta dalla frammentazione, dall'angoscia e dall'assenza di significato. Questa possibilità non coincide con una pretesa di vincere la disperazione, coincide invece con l'accettazione piena della disperazione, che si rivela in maniera paradossale positiva proprio per via della sua negatività. La disperazione infatti implica il riconoscimento del potere dell'essere nel pieno della stretta del non essere. Dice Tillich, la fede che rende possibile il coraggio della disperazione è l'accettazione del potere dell'essere, anche nella morsa del non essere. Anche nella disperazione del significato l'essere si afferma per mezzo nostro. L'atto di accettare la mancanza di significato è in sé stesso un atto significativo, è un atto di fede. È quello che per Tillich viene mostrato dal principio di correlazione fra Dio e l'uomo, principio che permette di pensare il nesso fra la domanda dell'uomo e la risposta di Dio. Si può allora dire che l'uomo è sostanzialmente una domanda la cui esistenza non è altro se non l'attenzione a una risposta possibile che Dio liberamente gli dona. E questo avviene nelle forme che via via, nelle diverse condizioni storiche e culturali, l'aspettativa umana è capace di recepire. Questo però non significa che la correlazione tra Dio e l'uomo sia per Dio necessaria. Se così fosse, si dissolverebbe la libertà e si farebbe dipendere Dio dall'uomo. E non vuol dire neppure che la risposta di Dio sia in qualche maniera forzata dalla domanda dell'uomo. Al contrario, domanda e risposta nella correlazione tra Dio e uomo restano del tutto indipendenti. Non si può inferire l'una dall'altra anche se sono correlative. Bisogna allora esplorare le correlazioni sia dal punto di vista della domanda, sia, per quanto sia possibile alle facoltà umane dal punto di vista della risposta. Proprio in ciò risiede il movimento della teologia per Tillich, il quale, recuperando un nesso con la filosofia nell'orizzonte della domanda sull'essere dell'uomo, riconosce insieme il fondamento stesso nella rivelazione come luogo della risposta divina. Il nesso fra domanda e risposta si svilupperà allora capendo che la rivelazione è la risposta alle questioni poste dalla ragione. E dunque ravvisando in Dio la risposta al problema dell'essere. In Cristo la risposta al problema dell'uomo. Nello Spirito Santo la risposta al problema della vita. Nel regno la risposta al problema della storia. Sicché la polarità viene ovunque riproposta e conservata nella sua ineludibile tensione. E' ciò sulla scorta della visione scissa e problematica dell'uomo che Tillich mutua dall'esistenzialismo e che, come sappiamo, è peculiare dell'intero novecento filosofico. Segnatamente va rilevato che, nel trattare della polarità tra l'essere e Dio, Tillich si richiama alla tradizione della mistica tedesca e anche al pensiero dell'ultimo Schelling. La concezione dell'essere come precarietà e angoscia, e quindi come costitutiva finitezza, non permette più di dare a Dio il tradizionale attributo dell'essere. Se però è necessario scorgere in Dio la risposta al problema ontologica, alla domanda fondamentale dell'uomo, allora Dio non potrà dirsi totalmente altro dall'essere, come diceva Barth. Al contrario Dio sarà il fondamento dell'essere, vale a dire colui che pone l'essere stesso e ne è il Signore. Soltanto nella misura in cui questo Dio può fornire una risposta al problema dell'essere, una risposta che comunque deve inscriversi per poter essere colta dall'uomo nelle condizioni della sua esistenza, sarà possibile rapportarsi a Dio. E' questo il cuore della cristologia di Tillich, il quale Tillich scorge in Cristo l'unità realizzata del divino e dell'umano in vista di una vita storica concreta e proiettata nel tempo. Dunque Cristo è la risposta suprema, ma accessibile a tutti gli uomini, perché è data nella dimensione dell'umano, si incarna in una persona. E se Cristo è la risposta alla domanda dell'esistenza, il cristianesimo, per parte sua, si differenzia da ogni limitata forma di religione. Il cristianesimo è dunque ben più di una religione per Tillich. L'incarnazione è il fondamento del senso della storia, e il culmine del senso della storia, il regno di Dio, non deve essere inteso come altro dal tempo, deve invece essere inteso per Tillich come la realizzazione più profonda del tempo. Sicché la teologia di Tillich sfocia in una visione escatologica, una visione che non annulla la storia, ma che ravvisa nella vita eterna l'immanente riscatto del male e della negatività storica. Dio diventa così per Tillich non solo il fondamento dell'essere, ma anche il fondamento della storia come storia della salvezza.